Si sta organizzando un volo per riproteggere gli italiani che oggi sono a Wuhan nella nostra comunità nazionale. Quindi si immagina un volo gestito sostanzialmente dall'autorità governativa italiana che possa arrivare lì, prelevare queste persone e riportarle in Italia. Una volta arrivati in Italia avremo bisogno di un percorso di controllo sanitario e di monitoraggio. L'operativo di voli dalla Cina? Nessun paese del mondo in questo momento ha questa misura. Noi abbiamo in questo momento i controlli più alti come ci ha riconosciuto l'OMS. Io ho chiesto una riunione internazionale di tutti i ministri della salute europee per capire insieme qual è la strada migliore. Grazie.